il bello di andare a vedere casa con la tua ragazza è che poi alla fine ti chiede un parere ma che poi quel parere non gliene frega niente perché alla fine io ti chiedo ti metto alla prova per capire se anche tu hai i miei stessi pensieri ma poi tu non li hai quindi alla fine facciamo come dicono le donne ed è giusto così allora imperterrita non mi dà tregua e io me l'ho messo un attimo a riposare eccola guarda come agguerrita guarda velenata comunque io ve lo ridico non contrariate mai una donna nello scegliere le cose di casa mai ciao oddio mi sta a chiamare eccoci ragazzi finalmente abbiamo terminato questa fantastica giornata che non è ancora prima perché domanda fa ancora la spesa oggi sono stato messo a dura prova da questa ragazza qui ma barcollo ma non molo guarda l'unica cosa positiva di oggi sono le scale mobili che mi stanno aiutando invece io cerco un assistente in casa vabbè cerco un assistente sono buona a fare assistente a mo te cebi vabbè ciao 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 ciao